Edilizia scolastica, terminate le verifiche strutturali presso l'Istituto Luigi Scudiero di Agropoli, come già annunciato in Consiglio Comunale dall'assessore Gerardo Santosuosso. Dalle verifiche effettuate presso l'Istituto Scolastico è emerso un notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche, che rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria, mediante opere di risanamento puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne, sui nodi di incrocio travi pilastri. Il progetto fu deliberato a dicembre con il titolo di opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato. L'importo per il ripristino è di 99.000 euro, di cui 78.000 euro per lavori e 21.000 euro per somme a disposizione dell'amministrazione. Per i fondi necessari è stata inoltrata la Cassa Depositi e Prestiti SPA richiesta di diverso utilizzo di parte del mutuo dell'Istituto Scolastico Luigi Scudiero, sito in via Verga, per somme a disposizione dell'amministrazione. Così ripartite. Importo lavori a misura soggetti a ribasso 74.887,45 euro. Oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.112,55, di cui per incidenza a mano d'opera 41.799,62 euro.